ciao a tutti ragazzi come andiamo bentornati sul canale times gadget come molti di voi sapranno proprio in questi giorni anche quest'anno a febbraio per questo 2020 samsung ha presentato i nuovi top di gamma della serie galaxy s quest'anno però la nomenclatura è cambiata infatti siamo passati da s10 direttamente ad s20 forse vuoi perché l'anno del 2020 non lo so questo qui l'ho ipotizzato ma cosa che non ipotizzo è che quest'anno abbiamo tre belle varianti abbiamo l'S20 l'S20 plus e l'S20 ultra la grande novità diciamo che sono tre varianti che si differenziano tra di loro per diversi aspetti diversi fattori ma quelle principali secondo me riguardano le dimensioni e quindi riguardano anche la grandezza del display la batteria e poi in particolar modo il comparto fotografico il comparto fotografico soprattutto per quanto riguarda l'S20 ultra rispetto all'S20 e all'S20 plus partiamo subito col parlare dell'S20 che è quello più piccolino con un display da 6.2 pollici tutti e tre i display sia quello dell'S20 che dell'S20 plus e l'S20 ultra hanno una risoluzione QHD plus dynamic amoled con un refresh rate sia a 60 hertz ma anche a 120 hertz quindi molto veloce e HDR10 plus quindi su tutte e tre i modelli le cose non cambiano cambiano poi le dimensioni perché come stavo dicendo sull'S20 abbiamo un display da 6.2 pollici una batteria da 4000 mAh mentre sull'S20 plus abbiamo un display da 6.7 pollici quindi si va ad allargare e si va anche un pochino ad appesantire aumentano anche il peso infatti qui passiamo sotto i 190 grammi rispetto ai 170 grammi circa sull'S20 e poi invece per passare all'ultimo allo step finale al terzo modello quello top di gamma di punta passiamo all'S20 ultra dove abbiamo un display da ben 6.9 pollici con un peso di 220 grammi ma soprattutto con un comparto fotografico davvero interessantissimo e con una batteria da ben 5000 mAh per quanto riguarda il compatto fotografico prima di parlare dell'S20 ultra sull'S20 e sull'S20 plus abbiamo il medesimo comparto una camera una prima camera ultra grandangolare da 12 megapixel stessa cosa 12 megapixel anche quella grandangolare normale e poi abbiamo un tele obiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 3x ma in digitale può arrivare fino a 30x quindi davvero molto interessante sotto l'aspetto dello zoom perché sicuramente è migliorato rispetto all'S10 o all'S10 plus quindi hanno fatto uno step avanti ma la cosa che secondo me è più interessante è il comporto fotografico come ho detto fin dall'inizio per quanto riguarda l'S20 ultra l'S20 ultra infatti ha una camera principale da ben 108 megapixel che è quella diciamo grandangolare e poi abbiamo la ultra grandangolare invece da 12 megapixel che è rimasta la stessa la medesima che troviamo anche sull'S20 e l'S20 plus e poi abbiamo una terza camera che è un tele da 48 megapixel dove abbiamo uno zoom ibrido ottico però 10x fino a un digitale che si riesce a spingere fino a 100x il 100x vi posso dire che è relativo perché è una risoluzione comunque ci si può scattare ma comunque le immagini vengono sgranate secondo me è stato soltanto più che altro un fattore di marketing o per far parlare o per dire che c'è uno zoom di 100x però la cosa che mi ha interessato e che mi ha più che altro stupito per la sua qualità è lo zoom di girare 30x perché abbiamo uno zoom che si pinge fino a 30x senza una grande perdita di dettagli e di qualità infatti quello lì l'ho apprezzato parecchio ho apprezzato anche il fatto che finalmente su questi telefoni dove abbiamo questi grandi escursioni di zoom è possibile andare a utilizzare lo zoom per step ciò che vuol dire che noi avendo i tre pulsantini sotto per scegliere lo zoom non abbiamo solamente la possibilità di andare sulla ultra grandangolare grandangolare e al massimo dello zoom ma questa volta abbiamo la possibilità con i tasti sotto di scegliere di passare al 3x 4x abbiamo anche se non sbaglio il 6x o 10x fino al 20x 30x e per ultimo step il 100x ecco la cosa che ho apprezzato perché è molto più gestibile e si fa molta meno fatica e soprattutto che diventa molto più preciso per arrivare allo zoom esatto e preciso che noi vogliamo altro aspetto interessante di questo telefono su cui samsung ha lavorato davvero molto bene e che forse molti di voi non sapranno è che abbiamo ha lavorato samsung l'azienda sul pixel binning che cosa vuol dire che in pratica il sensore di questo di questo s20 ultra la camera che ha un 128 megapixel lavora il telefono su un sensore da 108 megapixel con dei pixel che sono grandi 0,8 micrometri ma lo scatto poi viene ridotto a 12 megapixel e ciò vuol dire che i pixel arrivano a una grandezza di 2,4 micrometri tutto ciò che cosa vuol dire che cosa comporta poi in parole povere comporta che abbiamo una risoluzione maggiore un sensore che è più grande quindi entra più luce e abbiamo maggiore luminosità nelle foto ma soprattutto abbiamo un maggior numero di dettagli maggiori particolari noi possiamo anche scattare una foto a 108 megapixel senza zoom ma poi andare a fare il crop dell'immagine quindi ritagliarla e vedete che non abbiamo una grande perdita di dettagli o comunque rimangono tanti piccoli particolari cosa che non possiamo fare o dire degli altri sensori da 12 megapixel ma anche da 40 da 48 64 megapixel non lavorano come questo qui da 108 lo zoom poi oltretutto è stato un altro grande passo avanti perché è stato introdotto un periscopio orizzontale per riuscire ad arrivare a uno zoom ibrido ottico 10x poi chiaramente il resto è digitale ma è comunque interpolato e ha fatto un grandissimo lavoro molto sotto l'aspetto fotografico mi ha stupito questo telefono anche per quanto riguarda la connessione perché è 5g abbiamo una grande velocità c'è l'intelligenza artificiale sulla camera il che vuol dire che migliora anche alcuni scatti abbiamo il single take e ciò vuol dire che uno scatto singolo dove noi quando procediamo a fare uno scatto possiamo anche muovere il telefono man mano che lo muoviamo lui automaticamente l'intelligenza artificiale lavora e capisce quali sono le migliori scene da inquadrare e quindi ci propone poi a fine dello scatto i migliori scatti quello che per lui erano le scene più sensate o anche quelle migliori ci propone non solo 5 6 foto ma anche alcuni video dove poi lui ha messo insieme tutta una serie di fotogrammi per comporre poi alla fine un video quindi davvero una cosa interessante e sicuramente questo tipo di intelligenza è stata migliorata è stata migliorata anche la stabilizzazione quindi ci aiuta nelle foto e nei video proprio a quanto riguarda i video un altro aspetto interessantissimo di questo telefono è che finalmente è riuscito a implementare i video in 8k se avete capito bene video 8k quindi è una risoluzione altissima samsung ha spiegato che ha introdotto questo tipo di risoluzione nei video su un telefono perché comunque sono sempre di più i televisori che loro stanno producendo in 8k anche risoluzioni più alte e sono sempre anche di più sul mercato i dispositivi o anche i monitor che raggiungono una risoluzione più alta del 4k quindi loro hanno deciso di implementare già questo tipo di video di risoluzione 8k a 30 fps già su questo telefono e devo dire che è un passo un grande passo avanti poi sarà da vedere come si riesce a gestire questa risoluzione il video in post produzione se è troppo pesante se è troppo pesante anche per il telefono chiaramente per caricarlo online ci sarà bisogno di un tipo di connessione 5g quindi staremo a vedere col 4g come si potrà procedere in queste zone dove non c'è ancora assolutamente il 5g in particolar modo in italia ma bisognerà vedere come si riescono a caricare questi contenuti così di grandi dimensioni comunque però è stato fatto secondo me un grande passo avanti anche sull'8k seppur poi adesso è ancora poco utilizzato e chiaramente è pesante da gestire è un po come lo zoom 100x se ok c'è ma non è quella funzione che secondo me può essere molto utilizzata ancora oggi perché appaiono delle foto abbastanza sgranate seppur comunque l'azienda ha lavorato molto molto bene sotto questi aspetti altro aspetto molto importante per quanto riguarda i video la samsung ha fatto diverse collaborazioni per quanto riguarda il gaming con microsoft ma soprattutto ha fatto una collaborazione con netflix per portare dove porterà netflix contenuti originali ufficiali solamente dedicati ai dispositivi samsung questo qui perché perché samsung chiaramente ha lavorato bene sui display ha proposto questi video in 8k e quindi ha incentrato il tutto su questi nuovi terminali proprio sul sulla monottima idealità e sull'intrattenimento per far sì che gli utenti che acquisteranno questi dispositivi potranno godere al meglio dei nuovi display q hd plus dynamic amoled per quanto riguarda i processori all'interno di questi terminali purtroppo troviamo un exynos 990 seppur le batterie sono da 5.000 mAh 4.500 per le s20 plus e 4.000 per le s20 normali ok sono tante ma speriamo che si è fatto qualche passo in più a livello di ottimizzazioni a livello anche di consumi rispetto ai note 10 di oggi not 10 plus ma soprattutto rispetto ai precedenti s10 perché lo sappiamo tutti gli snapdragon a livello di autonomia a livello anche di gestione di batterie lavorano un pochino meglio rispetto agli exynos gli exynos sono sempre stati molto più energivori e quindi consumavano molta più batteria ed è sempre stato un problemino un piccolo un piccolo nego che si è portato dietro samsung negli anni quindi speriamo che quest'anno con questa nuova ui e con questo nuovo processore e soprattutto anche con questa nuova intelligenza artificiale si sia migliorato anche sotto questo aspetto ma adesso ragazzi arriviamo un po all'ultimo aspetto che è quello più importante e li ho puntati qui sotto perché non mi sarei mai ricordati arriviamo ai prezzi prezzi allora si parte con l'S20 che è proposto in due differenti varianti 4G e LTE il 4G ce l'abbiamo da 128 8 giga di ram a 929 euro poi abbiamo la versione 5G da 128 giga di ram e 12 giga di ram a 1029 euro e poi passiamo all'S20 plus dove vengono proposte ben tre varianti tre versioni da 128 8 4G quindi non è 5G a 1029 e poi abbiamo due varianti 5G la prima da 128 giga di ram e 12 giga di ram a 1129 euro la seconda invece che è quella più performante quindi anche quella più grande come storage 512 giga di ram e 12 giga di ram sempre 5G a 1279 euro invece per passare alla punta di diamante di quest'anno della Samsung l'S20 Ultra partiamo da un prezzo dove vengono proposte solamente due versioni entrambi solamente 5G non c'è la versione LTE ma è chiaro se c'è la possibilità di girare il video in 8k mi diventa parecchio difficile poi poterli caricare sempre in LTE anche quando ho il 5G quindi lo capisco questo tipo di step avanti comunque di questa versione abbiamo due versioni, due varianti la prima è da 128 con 12 giga di ram a 1379 euro come prezzo di partenza e poi abbiamo la seconda da 512 giga di ram e ben 16 giga di ram avete capito bene sono riusciti a mettere ben 16 giga di ram simili a un computer a 1579 euro i prezzi sono abbastanza alti ragazzi lo so non sono prezzi assolutamente contenuti ma secondo me diciamo che si allineano un po' sulla fascia di mercato di oggi sugli altri top di gamma e comunque anche sono giustificati dalle innovazioni che sono state implementate su questi dispositivi ultima cosa che mi stavo scordando di dirvi per quanto riguarda le fotocamere anteriori che mi era venuto in mente adesso sull'S20 Ultra abbiamo una fotocamera anteriore una camera da 40 megapixel anteriore con f2.2 se non vado errato e poi invece sull'S20 e sull'S20 Plus invece è ridotta a 10 megapixel quindi è leggermente sotto tonno rispetto all'S20 Ultra ma comunque c'è la differenza di prezzo e c'è questa differenza nel comparto fotografico che secondo me sposta maggiormente l'ago della bilancia e l'ago della scelta finale comunque come stavo dicendo i prezzi si allineano con gli altri top di gamma ormai sappiamo che Apple è stata un po' la prima ad alzare tutti i prezzi e man mano poi le altre aziende si sono andate con il tempo ad allineare fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi prezzi ultima cosa che mi stavo scordando di dirvi non so se ci avete fatto caso della mossa che ha fatto Samsung quest'anno con questo cambio di nomenclatura ma anche con questo cambio di fascia di prezzi in pratica noi abbiamo il successore dell'S10 Plus perché è l'S20 anzi devo dire che è l'S20 Ultra ma vi rendete conto che non abbiamo un successore per il proprio adesso dell'S10e perché non c'è più un terminale Galaxy S low cost o comunque che vada sotto la soglia di 800 euro questo perché Samsung un po' come ha fatto Apple con i nuovi iPhone 11 non so se vi siete accorti ma ha sollevato tutta la stanchetta dei prezzi ma ha sollevato anche tutti e tre i terminali ciò vuol dire che l'S20 attuale non rientra più come un low cost ma rientra come un'alternativa all'S20 Plus con quasi le stesse specifiche perché abbiamo comunque le stesse caratteristiche con un prezzo leggermente inferiore ma è di fascia alta non rientra come un terminale non viene più visto come un terminale di fascia bassa una piccola furbizza che non so se ci avevate fatto caso che Samsung ha fatto seguendo un po' secondo me in scia ad Apple comunque detto questo ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate non solo dei prezzi ma anche di questi S20 quale preferite quale avete già provato in questi giorni se siete riusciti a utilizzarli al volo da qualche parte o l'avete già visti e fatemi sapere se siete più optati per i nuovi S20 o S20 Ultra che cosa ne pensate di questo comparto fotografico oppure del Samsung Galaxy Z Flip per chi di voi non l'ha visto vi ricordo che sul canale potete trovare la mia video anteprima che ho girato proprio alla presentazione qui a Milano detto questo ragazzi se vi è piaciuto questo video come al solito vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi qui su canali YouTube e iscrivervi anche sui canali social in primis il gruppo di Telegram e anche l'account di Instagram e come al solito vi lascio tutti i link sempre qui sotto in descrizione detto questo noi ci vediamo alla prossima video recensione ciao a tutti ragazzi e buona giornata a tutti ciao 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 a tutti